Ad Albino si sta completando l'allestimento del centro vaccinale all'auditorium comunale, centro che sarà gestito dai medici di medicina generale della cooperativa IML. Abbiamo il presidente Mario Sorlini. A che punto siete? Siamo al punto in cui noi l'allestimento, grazie alla disponibilità del comune di Albino, è arrivato a un punto ormai finale. Abbiamo allestito otto linee vaccinali, nelle quali potranno operare otto medici di medicina generale contemporaneamente e abbiamo, credo, la possibilità a regime di poter arrivare a circa mille, millecento vaccinazioni di E. Il personale sarà composto da medici di medicina generale? Il personale medico sarà ovviamente composto da medici di medicina generale. Abbiamo già 70-80 medici che hanno dato a loro disponibilità e con questi medici siamo in grado in questo momento di coprire tutte le otto linee vaccinali per 12 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana. Dopodiché abbiamo una convenzione con una cooperativa di infermieri che fornirà la parte di loro competenza e poi abbiamo tutti gli amministrativi di cooperativa che saranno dedicati alle parti amministrative della vaccinazione. Quando aprirà il centro? Noi possiamo dire in questo momento che siamo assolutamente pronti per iniziare. Mancano a questo punto due dettagli, che dettagli però purtroppo non sono. Uno è la possibilità da parte nostra che i pazienti possano accedere al portale di poste italiane per potersi prenotare e per così dire anche la cosa fondamentale che ci siano i vaccini sufficienti a disposizione. Sindaco, c'è attesa per l'apertura di questo centro vaccinale? Sì, c'è grande attesa, grande aspettativa tra la gente di Albino e non solo. È stato davvero importante, doveroso, aprire un hub vaccinale qui ad Albino al centro della media bassa valseriana, uno dei territori più colpiti durante la prima ondata pandemica. Per questo c'è davvero molta attesa e molta aspettativa da parte di tutti. In Comune riceviamo continue telefonate da parte di cittadini che chiedono quando sarà attivo l'hub vaccinale. Noi qui ormai siamo pronti, abbiamo allestito tutte le postazioni, i medici di medicina generale a loro volta sono pronti, sono tutti entusiasti di partire, hanno già ormai stabilito quelli che sono i turni. Aspettiamo il via da parte di ATS e l'inserimento sul portale di poste italiane per le prenotazioni. L'amministrazione ha colto subito al volo questa proposta che ci è venuta dalla cooperativa IML che davvero gli rende onore. I nostri medici di medicina generale, i nostri medici del territorio, si sono messi in discussione, hanno dato tutta la loro professionalità e il loro impegno per aprire questo hub che sarà proprio gestito da loro. Primo esempio, prima formula è in tutta Italia e questo ci fa onore ed è per questo che l'amministrazione si è subito messa a disposizione fornendo la struttura dell'auditorium comunale, una struttura moderna, ben organizzata, posta al centro del paese, facilmente raggiungibile con un parcheggio dedicato. Abbiamo allestito tutte le postazioni con i separe, le sedie, i tavoli e la nostra protezione civile si occuperà non solo del servizio d'ordine ma anche della sanificazione degli ambienti quotidianamente dopo ogni giornata di somministrazione dei vaccini. Aspettiamo di avere il via libera e di partire. Qui siamo tutti pronti.